A tenere banco in regione è ancora la questione sanità. In attesa delle nomine regionali previste per domani pomeriggio a Palazzo Santa Lucia si parla delle questioni che riguardano da vicino i pazienti. Oltre un milione di ricoveri contro i 600.000 errotti dell'anno precedente. Tante in campagna le persone che hanno dovuto far ricorso alle strutture sanitarie pubbliche e private in aumento di oltre il 40%. Numeri davvero esplosivi, quelli comunicati dal Ministero della Salute e relativi al 2014. A livello nazionale i ricoveri ospedalieri sono invece 9 milioni e mezzo con una riduzione del 3,5%. Andando a leggere il rapporto SDO, scheda dimissione ospedaliera, la degenza media è di poco inferiore ad una settimana, 6,8 giorni, mentre per quanto riguarda la riabilitazione lungo degenza i tempi si fanno più brevi. Una diminuzione costante dal 2009 ad oggi, in regime ordinario, si passano comunque 26,3 giorni in ospedale. I dati del di Castero guidato da Beatrice Lorenzin consegnano un quadro che, almeno a livello nazionale, è lento miglioramento rispetto al passato. Complessivamente si osserva una significativa deospedalizzazione, con un miglioramento dell'appropriatezza organizzativa e dell'efficienza nell'uso delle risorse ospedaliere, fanno sapere dal Ministero della Salute. Ma per cosa si fa maggiormente ricorso ai ricoveri? In base alle schede consegnate dagli istituti per il parto. Subito dopo, le patologie cardiovascolari e respiratorie, seguite dagli interventi chirurgici alle articolazioni. Quanto sono affidabili questi numeri? Secondo il Ministero, tantissimo, vista anche la riduzione degli errori delle schede di compilazione, che si è ridotta del 10% rispetto allo scorso anno. Anche con questi numeri, insomma, dovranno dunque confrontarsi i manager che il governatore regionale Enzo De Luca provvederà a nominare nel pomeriggio di domani.